e tornati bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video o qui tornati per parlare di calcio mercato oggi non sarà un video in cui vi parlerò dell'entrata del lecce bensì delle uscite perché a breve appunto il club giallorosso dovrebbe ufficializzare due sessioni che sono quella di lorenko simic all'ascoli e quella di mario gargiulo al modena prima che veni inizi a parlare invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella qualora non l'avesse già fatto allora partiamo col dire che secondo me questi due calciatori l'anno scorso hanno giocato diciamo così e così simic peggio proprio peggio di peggio cioè giocato proprio male malissimo giocato malissimo mentre gargiulo il suo il supporto alla squadra comunque il suo lavoro l'ha fatto anche se non mi è piaciuto tanto mi ha fatto sclerare molte volte sia allo stadio che sia a casa i live reaction non so se voi le vedevate le live reaction quindi quindi per me va benissimo non sono sono contentissimo che abbiamo citato questi due questi due calciatori sempre nel rispetto però sempre mantenendo rispetto per il professionista e per comunque dei calciatori che hanno fatto parte della mia squadra del cuore allora simic all'ascoli sinceramente l'ascoli non so se quest'anno punta un postone playoff comunque si ambisce a qualcosa di più grande della salvezza magari pure quest'anno c'entra le playoff sinceramente una squadra che mi sta molto simpatica quindi gli auguro il meglio anche perché dopo anni in cui ha faticato molto in serie b l'anno scorso ha fatto bene a mio modo di vedere anche se quest'anno la guida tecnica è cambiata perché sottile è andato all'udinese quindi è passato in serie a e tuttavia hanno deciso di prendere altre strade per quanto riguarda il modena secondo me il modena sarà una 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 squadra che sarà sorpresa del campionato di serie b in quanto sta puntando a tanti calciatori voleva coda addirittura prima che il cena si prendesse coda voleva coda sognava coda e poi sogna tantissimi altri calciatori il modena che comunque è un club ambizioso quello che stiamo stiamo apprendendo e quindi vuole fare forse il salto di categoria immediato quindi dalla c alla a direttamente passando per la b ovviamente passando alla b però facendo il salto come abbiamo fatto noi qualche anno fa cb via in una sola botta per quanto riguarda invece le entrate me ne ho parlato negli scorsi video oggi che sto registrando che domenica sono stati ufficializzati i colpi colpi di mercato secondo me quelli più più buoni fino fino ad ora ovvero quella del portiere falcone che sarà quasi sicuramente il primo anche se si dice che si giocherà il posto con brancolini e poi c'è il centrocampista giovanissimo a skil sen sempre della sampdoria quindi sono due colpi in entrata a mio modo di vedere ottimi anche se con una formula che mi convince per quanto riguarda la mia opinione mi convince un diritto di riscatto e contro riscatto fissato se non sbaglio a 3 milioni per falcone e a 2 milioni per a skil sen quindi il lecce comunque ha fatto due ottima quasi acquisizioni per quanto riguarda calcio mercato in entrata sicuramente ci vorranno altri tre o quattro centrocampisti e molto probabilmente alexis blend rimarrà ma di questo ragazzi ve lo andrò a parlare in un altro video ora mi sto dilungando tantissimo parliamo sempre delle uscite dove in uscita c'è naturalmente a pablo rodriguez che sta rifiutando ogni offerta ma che potrebbe essere inserito in qualche affare qualora appunto ce ne dovesse essere bisogno se ne è parlato della spalla e poi comunque quasi tutti ragazzi calciatori che hanno fatto bene l'anno scorso quasi tutti giocatori con cui abbiamo vinto il campionato andranno via bleve rimane comunque rimarrà a fare il terzo per un altro anno e niente quindi io spero che queste l'acquisizione di falcone e di a skil sen siano siano come da mia previsione buone mentre sono contento per queste uscite perché ve lo ripeto sinceramente con tutto il rispetto che io abbia per simic e gargiulo non sono due giocatori che con il lecce potevano fare la serie a soprattutto simic gargiulo guarda guardate ragazzi può essere che me lo sarei tenuto proprio da ultima riserva perché comunque ha avuto una stagione sfortunata ha fatto comunque tre gol dopo l'infortunio non è tornato al top e io sinceramente non l'ho mai visto bene tranne in quelle tre occasioni dove ha segnato nelle prime giornate però nel resto nel resto del campionato sinceramente mi ha fatto proprio pietà gargiulo per quello che ha fatto negli scorsi anni dove in serie in serie b da centrocampista ha fatto otto gol col cittadella veniva da una stagione col cittadella sinceramente ha deluso ha deluso tanto le aspettative ma non solo mie come così come quelle della società ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel like attivate la campanellina fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di queste due sessioni e dei due nuovi acquisti su falcone io ho fatto il video appunto di ieri ieri l'ho fatto uscire e quindi andatevi a vedere anche quello se vi interessa link in descrizione seguite sporsi in lo sport del salento raccontate in collegio inserirà tantissime novità questa ormai una battuta una come dire una frase che ormai dirò in ogni video vi ringrazio ciao ragazzi sempre forza lecce